Con Alberto Trondoli quest'oggi parleremo di economia del futuro. Allora chiedo a lei, quale può essere il ruolo delle reti, delle telecomunicazioni per veicolare l'Italia anche fuori dalle difficoltà in cui si trova in questo momento e lo dicono i mercati, non lo dicono i soliti uccelli nel malaugurio? Ma assolutamente fondamentale. Negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni in particolare, noi abbiamo cambiato in modo molto significativo il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare, di interagire con gli altri, il nostro modo anche di divertirci e questo grazie alla rete. Ma un cambio ancora più significativo avverrà nei prossimi anni. Oggi è difficile capire e immaginare che cosa succederà. Certamente il modo e la qualità della vita cambieranno drasticamente e questo grazie alla rete e in particolare alle nuove potenzialità offerte dalle reti di nuova generazione, in fibra ottica soprattutto. Ecco, Alberto Francesco Caio che sarà oggi il nostro ospite ha scritto banda stretta per l'appunto. È ancora un problema serio per l'Italia, la retratezza della velocità di banda. Sì, è un problema serio ma che diventerà sempre più importante nei prossimi anni. proprio perché la banda, tra virgolette, stretta pone delle forti limitazioni, dei forti vincoli allo sviluppo di nuove applicazioni, di nuovi servizi, alla crescita del traffico. L'abbiamo visto anche negli ultimi anni. YouTube, Google, fanno crescere tantissimo il traffico e ovviamente questa crescita di traffico trova poi dei colli di bottiglia nella rete a banda stretta. È necessario quindi, se si vuole costruire il futuro con il necessario anticipo, cominciare a investire nello sviluppo di queste reti di nuova generazione, in fibra ottica. Vuol dire portare la fibra nelle città, perché oggi la fibra viene utilizzata essenzialmente sulla lunga distanza, quindi per interconnettere le varie città a livello nazionale, internazionale, d'ora in avanti bisogna portare la fibra all'interno della città fino all'abitazione dell'utilizzatore finale. Faccio una domanda secca. Secondo lei, passando dalle reti alla rete, quanto è possibile che internet sia una nuova bolla? Mi spiego meglio. Si sta vedendo la possibilità di quotare in borsa industrie come Twitter, ad esempio, la cui valutazione teorica si gira intorno alle decine di miliardi di dollari, che è una valutazione piuttosto elevata per un'azienda che poi ha solo 600 dipendenti. Non pensa che possa essere un problema anche questo? Beh, guardi, bisogna sempre distinguere tra mondo dell'industria e mondo, diciamo, della finanza. Le valutazioni di cui lei parlava, di Twitter piuttosto che di Google, piuttosto che di Facebook, sento parlare relativamente a Facebook di valutazioni dell'ordine di decine di miliardi di dollari, che sono evidentemente molto, molto importanti, sono valutazioni che ovviamente sono basate su considerazioni, su stime fatte in un certo modo. Quello che però è importante, secondo me, non è tanto la valutazione, quindi quanto poi varrà una società nel momento in cui andrà su un mercato quotato. Quello che è importante sono le applicazioni, i servizi che queste società sono in grado di fornire, sono in grado di offrire, servizi che ovviamente devono far crescere l'economia e la società più in generale. Mi sembra che Facebook, Twitter, Google, prima ancora, al di là, diciamo, dei fenomeni più o meno di moda, sono comunque dei motori importanti per lo sviluppo economico e sociale, diciamo, del mondo in generale. Io ringrazio e chiedo soltanto una battuta. In conclusione su Cortina in Contra, che oggi ospita questo dibattito. Mi sembra una iniziativa eccellente perché dà modo di far incontrare il mondo dell'industria, il mondo della finanza, il mondo della società con la gente, creando un ponte, secondo me, molto interessante da questo punto di vista. Grazie.